Il vostro corpo è l'arpa dell'anima e sta a voi trarne dolce musica oppure suoni confusi. Body Wars Vital, la mostra di anatomia che offre la possibilità di vedere il corpo umano dal vero, arriva per la prima volta in Sicilia, presso gli spazi del Real Albergo delle Povere nel cuore di Palermo. Grazie per la visione! L'esposizione originale ideata dal noto medico tedesco e scienziato Gunther von Hagens si presenta con un allestimento di nuova concezione e preparazioni anatomiche recentissime, focalizzato sulla salute, il buon funzionamento del nostro organismo e la prevenzione delle più comuni malattie. Il grande interesse per la mostra organizzata da Ninfea in collaborazione con la regione siciliana e Culture Italy si deve alla possibilità unica ed emozionante di entrare con i propri occhi all'interno del corpo umano. Lungo il percorso, che comprende oltre 150 plastinazioni, tra cui i famosi corpi a figura intera, i singoli organi, le configurazioni e sezioni corporee trasparenti, i visitatori potranno conoscere la straordinaria sinergia tra organi ed apparati che rende possibile la vita. Grazie a tutti!